Una vera e propria rivoluzione, ma silenziosa. Sì, perché dei tantissimi cantieri in corso, nell'aeroporto Carol Voitila di Bari, solo 5 sono quelli dedicati all'adeguamento sismico della struttura, i tantissimi utenti, chi in partenza, chi in arrivo, non hanno alcuna percezione grazie ad un lavoro di schermature sapientemente pensato dai tecnici. Ma procediamo con ordine. È rivolta principalmente all'utente, è un'idea di benessere anche quando si è in viaggio, la riqualificazione dei bagni in fase di completamento, così come quella degli ascensori, più ariosi, veloci, tecnologici e dotati persino di aria condizionata. Ad accompagnarci in questo viaggio, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, orgoglioso di questi ulteriori passi in avanti e di una struttura candidata oramai a collocarsi nel panorama dei grandi aeroporti italiani. Ci fa piacere anche il fatto che siamo praticamente ad un passo dal traguardo di questi lavori e poi cominceremo invece a lavorare sugli ampliamenti, ovvero proprio sul raddoppio delle infrastrutture. Quindi sono dei lavori a step, ripeto, sono necessari, sono molto utili, sono efficiente ancora di più le nostre strutture e consentono a tutti i cittadini pugliesi, che voglio ricordare unitamente la regione Puglia, sono i nostri azionisti, di risparmiare. E' dalla work area che parla Antonio Vasile, una nuova zona dedicata a tutti coloro che tra un volo e l'altro avranno bisogno di spazi adeguati a riunioni di lavoro, con due stanze apposite ed incontri. E a proposito di digitalizzazione, già posizionati i nuovi chiostri per il sistema di registrazione europea di tutti i cittadini extra Schengen, i dati saranno raccolti in un database dalle apparecchiature grazie al riconoscimento biometrico e alla raccolta delle impronte digitali, fondamentali per l'apertura di fascicoli sul tipo di viaggio che si sta effettuando. Completano il lavoro i box di pulizia posizionati subito dopo e le postazioni per la lottura dei passaporti elettronici. Tempi d'attesa ottimizzati dunque per l'aeroporto barese, che in queste ore sta rafforzando anche il sistema di smistamento dei bagagli. Guardiamo adesso una parte del sistema, l'acronimo è BHS, è il sistema di smistamento dei bagagli, che ha una serie di livelli in funzione di tutto quello che viene letto all'interno del bagaglio, una serie di filtri, nella parte in cui ci troviamo è la parte ancora più intelligente e più evoluta in quanto è stato già recepito lo standard di terzo livello. La macchina che vediamo qui di fronte a noi, questa grossa macchina radiogena, è di ultimissima generazione ed è stata installata prima dell'estate. E non finisce certo qui. La rivoluzione dell'aeroporto barese si completa anche con l'ampliamento della zona parcheggi, che entro dicembre potrà contare su ben 300 posti auto in più e con la riqualificazione dell'ex palazzo ENAV, struttura in disuso di un migliaio di metri quadrati, che presto diventerà la nuova sede degli uffici.